L'IN AV5140 è un diffusore da pavimento con altoparlanti di qualità che può essere utilizzato senza particolari problemi di posizionamento sia in un sistema hi-fi stereo che in un impianto audio video. È risultato di importanti ricerche acustiche. Il mobile è costituito da pannelli in fibra ad alta densità da 18 mm ed è stato progettato per avere le minime superfici parallele all'interno del cabinet per ridurre le risonanze associate ad ogni altoparlante. Lo stretto pannello frontale offre una buona dispersione ed un'alta rigidità mentre la parte posteriore del cabinet più ampia ha consentito l'installazione di un'unità woofer da 20 cm per fornire una notevole estensione dei bassi. Il design è elegante e senza tempo e sul sito di audioreview.com sono presenti ben 33 recensioni scritte da vari utilizzatori. La media dei giudizi è di 4,6 su 5. Molte, quasi la maggior parte, sono le recensioni a pieno punteggio. Il diffusore monta quindi tre altoparlanti. Il tweeter a cupola è in ceramica da 19 mm montato su una piazza frontale presso fusa con la bobina mobile raffreddata con ferro fluido su un capton che trasmette calore al magnete. La piasta frontale è in alluminio per una maggiore potenza. La parte posteriore del tweeter è sicillata nel suo involucro per evitare che la pressione dei bassi influenzi la prestazione degli acuti. Il midrange utilizza un cono in pro di propilene rigido con una griglia in alluminio.